E' così, ragazzi. Vuoti per mezz'oretta dopo quei finferli che avete visto precedentemente e penso che non ci sia molto da commentare. Volete sedulis? Non è finita però dopo questo. Iniziamo a cavarlo. Guardate proprio la perfezione. Ovviamente sì, perfezione, mangiato un pochino in queste zone, però come potete vedere fungo fresco, fungo che non è qui da molto, quello sicuramente. Ora, procediamo con calma. Una vera emozione agli occhi, niente da dire. Cioè, proprio una perfezione. Ora, sentiamo il croc. Eh, signori. La lumachina c'è. Ovviamente le piogge ci sono state fino a pochi minuti fa. Questo è un signor fungo. Sano, duro. Ok, è un pochettino mangiato. Però, signori, questo è proprio spettacolare. Guardate un po' dove è cresciuto. Questa è roccia. Ha cercato proprio il punto ha cercato proprio l'umidità, ecco. Ora, non è finita perché dopo quello che dovrebbe rimanere su anche perché se no ci sono problemi, ci sono guai. Abbiamo un'altra famigliola qui sotto. In che senso? Nel senso che sono uno qui un'altra sotto qua. Guardate. Che belli. Questo forse piccolino però comunque era attaccato a questo. Questo un po' mangiato. Vediamo. Vediamo un po'. C'è la radice. Qui ci hanno anticipato in pieno però comunque bello fresco. Guardate. Ci hanno proprio anticipato lumache si agguantano subito sulle prede. Andiamo a prendere questo. Come potete vedere bei bocciolotti. Vediamo sempre il buco spettacolare di nascita. Niente da dire misura minima ma giusta secondo me. Non è finita perché tra poco nel prossimo video ne caveremo degli altri. di di